Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Come ogni venerdì mattina su Destiny andiamo a vedere insieme cosa ha Xur da vendere. Per la classe Titano vendrà gli MK44 fate largo e degli stivali esotici totalmente inutili. Davvero non trovo altre parole con cui poterli descrivere. Ne parlai già nelle settimane precedenti, ma niente. Solo inutili, esclusivamente inutili, la cosa più inutile tra tutti i pezzi di armature esotici presenti nel gioco per er mio. Per la classe Cacciatore venderà la Maschera del Terzo Uomo, un casco esotico da utilizzare con la classe Lama Danzante, abbastanza carino. Non il migliore, non quello con gli effetti più utili in assoluto, abbastanza carino. Di nota anche che grazie al suo effetto di potersi ricaricare la vita raccogliendo sfere di luce diventa quasi indispensabile quando si andrà a fare la fine di crota a livello hard e non si disponga del casco appunto di crota con il medesimo effetto. Per la classe Dall'Ostergoni invece venderà il Velo dell'Apoteosi, un casco esotico abbastanza carino, molto utile per via appunto dei suoi effetti che riguardano la guarigione sia quando attiverete la superabilità sia quando raccoglierete delle sfere di luce. Quindi stesso discorso della Maschera del Terzo Uomo, molto utile durante la fine di crota. Purtroppo però non mi piacciono troppo gli altri suoi effetti e li trovo abbastanza inutili, soprattutto se comparati a quelli di altri caschi come ad esempio la mente d'ossidiana o la luce oltre alle nemisi. Inoltre personalmente l'estetica mi fa veramente cagare, detto sinceramente. E per quanto riguarda l'arma esotica di questa settimana Xur porterà il Dura Luce, per la prima volta se non erro, un fucile automatico con una cadenza molto alta e quindi di conseguenza un impatto piuttosto basso, ma che grazie alla patch avvenuta il 9 dicembre, la grande patch che ha modificato un po' tutte le armi esotiche tanto per intenderci, e con un notevole aumento della sua stabilità è diventato un'arma molto molto forte da utilizzare. Quindi consiglio a tutti di acquistarlo e perlomeno di provarlo per vedere un po' come ci si trova. Personalmente vi dico mi dà un buon feeling come arma, poi vedete voi. Infine oltre al frammento esotico Xur venderà l'ingramma esotico per il casco, quindi potrete trovare uno dei 12 caschi esotici presenti nel titolo. Degendo questo ragazzi il video volge al termine. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro gradimento e noi ci sentiamo al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!